In studio con noi Andrea Dalisca, consigliere delegato corporate marketing gruppo Decra Italia. 25.000 dipendenti in Europa ma anche in Italia ci facciamo valere, grazie innanzitutto di essere con noi. Sì, anche in Italia ci facciamo valere. Decra è una multinazionale di origine tedesca, siamo presenti praticamente in tutto il mondo, in oltre 50 paesi, 25.000 collaboratori in crescita costante ogni anno. E che cosa facciamo? Per spiegare bene i tanti servizi, la società dei servizi, noi ci occupiamo principalmente di sicurezza. In Italia siamo molto conosciuti principalmente per i centri di revisione, quindi sicurezza stradale, ma abbiamo anche altre realtà che si occupano di sicurezza in ambito industriale, con controlli ad esempio a impianti, a fabbriche, quindi sicurezza sul lavoro. È una realtà che sta crescendo anche in Italia e di questo ne siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti soprattutto in momenti difficili. Significa che la qualità che eroghiamo, alla fine la scelta strategica della qualità, paga. Ecco, una grande qualità che passa appunto anche attraverso la vostra rete. Definiamo di vendita, in realtà sono degli affiliati che effettuano delle revisioni con un criterio estremamente razionale, ma questa rete di affiliati si sta allargando. Esatto, allora la revisione per noi deve seguire un protocollo ben preciso, quindi noi chiediamo ai nostri centri di adottare e adattare i nostri protocolli, implementarli in modo da dare sicurezza agli automobilisti, ai motociclisti. Abbiamo superato come centri di revisione in tutta Italia i 700 affiliati, ma la bella notizia per noi è partito da un anno un progetto di sviluppo, chiamiamola di sottorete, cioè di officine che offrono il servizio di pre-revisione secondo i nostri protocolli. L'obiettivo è coprire estensivamente tutto il territorio nazionale. Ecco, ma nel pratico questa pre-revisione come avviene e quali sono i benefici per l'utente? Noi ci siamo accorti di una cosa, che molto spesso le officine facevano dei controlli per i clienti, per gli automobilisti, senza sapere esattamente poi cosa sarebbe servito per la revisione. E in alcuni casi le vetture non passavano perché non erano state controllate nei punti necessari e corretti. I vantaggi quali sono? Soprattutto abbiamo pensato per la comodità. La revisione si definisce un servizio di prossimità, cioè io vado normalmente da chi mi è vicino. Magari mi piacerebbe andare da un Decra, ma è un po' distante, è fuori strada, non è proprio sotto casa o sotto l'ufficio. Avendo un'ufficina qualificata di pre-revisione Decra, magari vicino a casa o vicino all'ufficio, o comunque il mio meccanico di fiducia che è Decra, gli porto la mia macchina, so che me la controlla ai fini della revisione, se ci sono degli interventi da fare me li sa spiegare, me li sa motivare e ho anche il servizio comodo che poi mi porta la macchina dal centro di revisione. Casamadro ormai è una tradizione da parecchi anni, stila un rapporto di affidabilità. Ecco, vorremmo capire qualcosa di più di questo rapporto di affidabilità e che benefici abbiamo anche noi utenti italiani. Sono dati che provengono da 15 milioni di revisioni effettuate nell'arco di due anni, con dei criteri statistici ben precisi. Poi non guardiamo tanto l'età, l'anzianità del veicolo. Un veicolo di 10 anni che ha fatto 15 mila chilometri è presumibilmente più affidabile e con meno difetti di uno che ha due anni ma ha fatto 200 mila chilometri. Quindi noi abbiamo delle fasce di percorrenza, dividiamo i modelli, i veicoli in fasce di percorrenza e ne identifichiamo le difettosità tipiche all'aumentare dei chilometri. La cosa carina da quest'anno, per chi ama e sta pensando magari di comprare un'automobile, il rapporto, il report usato, DECRA, quest'anno lo chiamiamo rapporto usato, è disponibile sia online sotto la urla www.decrareportusato.it oppure per chi ha un tablet o l'iPhone o l'iPod, lo può scaricare come app e ottiene tutte le informazioni rilevanti sia per iPad che gli smartphone Android. Estremamente interessante, dati, numeri che voi analizzate con la lente di ingrandimento ma anche per la sicurezza e quest'anno c'è una ruota anche in un altro rapporto dedicato ai ciclisti e ai pedoni. I rapporti di sicurezza stradale sono degli studi che vanno ad analizzare i comportamenti sbagliati che generano incidenti, le problematiche se legate a dei mezzi, a dei veicoli che normalmente ci possono essere su questi veicoli e le problematiche di infrastrutture. Quest'anno abbiamo parlato di ciclisti e di pedoni, le sorprese sono relative nel senso che le cosiddette categorie deboli, queste sono le categorie deboli in assoluto, ancora una volta vedono nei giovani e negli anziani, in particolare per i pedoni e nei bambini, le vittime a maggior rischio, le persone a maggior rischio. Numeri importanti che ci consigliamo di andare a scrutare sia per noi cittadini ma anche per il Ministero. Esatto, questo è fondamentale. È indirizzato non solo ai privati ma è indirizzato soprattutto all'istituzione e a coloro che possono intervenire con decisioni importanti e prendere dei provvedimenti per migliorare la sicurezza stradale di tutti. Anche il rapporto stradale è visionabile online, è scaricabile dal nostro sito che è www.decra.it e oltre al rapporto di quest'anno su pedoni e ciclisti si possono prendere visione anche dei rapporti degli anni precedenti per chi ne avesse interesse. In conclusione io stesso ho dato un'occhiata, è una notizia buona che se nel caso delle vetture ai vertici abbiamo ancora le vetture tedesche ma anche la nostra FIAS 500 sta salendo molto nel piano di affidabilità e invece a livello di incidenti stradali, ciclisti e pedoni non siamo gli ultimi, siamo a metà strada, stiamo migliorando e questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Grazie di essere stato con noi, alle prossime interessanti informazioni da parte dei crediti. Grazie a voi, alla prossima.